Come ho detto ai ragazzi sarà sicuramente una partita complicata perché è una squadra molto forte che stanno facendo veramente bene a parte i quattro punti di penalizzazione quindi sappiamo che dobbiamo fare una gran partita per poterla vincere però vedo la mia squadra che sta bene, sono carichi, sono motivati sono convinto che domani uscirà una partita bella Ma bene, quando ci sono i risultati positivi la squadra è sempre molto attenta e vogliosa di allenarsi anche se devo dire che loro l'hanno sempre fatto, hanno sempre avuto un atteggiamento molto positivo non posso che fare sempre elogiare i miei ragazzi perché sono eccezionali in allenamento adesso però dobbiamo pensare a domani, vogliamo assolutamente vincere è una partita che vogliamo vincere per tante motivazioni siamo pronti e consapevoli che di fronte, come ho detto prima, abbiamo una grande squadra ma noi siamo consapevoli anche delle nostre certezze quindi vogliamo mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro